amici di calcio puro ci siamo presi un attima piccola pausa ma allora ne approfitto video brevissimo we wish you a merry christmas e perché lo faccio in inglese perché ragazzi oggi domani ci sarà il boxing day ciao a tutti ragazzi ne approfitto per farvi un augurio il buon natale molto in ritardo cosa avete ricevuto io spero bene io ragazzi ho ricevuto lei la ps4 finalmente dopo anni che la desideravo l'ho ricevuta per regalo di natale io vorrei fare ragazzi delle live però ho provato oggi su twitch non andava vedremo ragazzi se i giorni riuscirò a risolvere questi problemi e da portarvi anche qualche live spero ragazzi che in caso vi possa piacere magari anche qualche gameplay senza molti tagli cioè gameplay molto easy magari potremmo farlo magari che non penso con la cam ma comunque potremmo volendo in qualche modo fare la cam ma comunque spero che abbiate passato questa natale al meglio che vi siate abbuffati io non mi lamento mi sono abbuffato assolutamente come sempre come tutti i natali un po ci abbuffa aspettate io vi dico questa cosa io non mi abbuffo ragazzi per quel cenone perché io al cenone cioè avete presente ancora e io ragazzi devo avere la promozione dal dal cosa dal tavolo dei bambini dal tavolo dei piccoli al tavolo ai grandi ma comunque quando ancora il tavolo dei piccoli ti puoi alzare quando mangi magari a pasta al sugo dopo il primo io ragazzi non riesco più a mangiare ma comunque perché maggio poi più che altro poi basti salame formaggio non so voi comunque vi auguro un sereno natale domani il mio santo sono santo lo so santo stefano ma comunque era un breve video che vi volevo fare per augurarvi un buon natale spero che vi siate divertiti in famiglia tombolate tomboloni ambi da parte dei padri che avranno senza dubbio dormito vi auguro un buon natale e se volete seguirmi sul secondo canale dove stiamo sul secondo canale sul canale di basket dove stiamo commentando tutto il christmas day nba fate pure perché così parliamo anche di altri sport che non sia solamente ragazzi il calcio ma comunque io vi saluto noi ci vediamo presto al prossimo video ciao amici